Col tecnico del Barano di meglio, allora mister, un Barano che è venuto qui non era facile contro la Capolissa però siete stati in partita fino poi a quello sfortunato autogol. Sì, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché oggi veramente abbiamo fatto una bella gara. Come domenica scorsa abbiamo creato tanto e è un peccato per le occasioni spregate. Un Barano che lotterà per la salvezza, la strada è ancora lunga, sei ottimista mister? Sì, sono sempre ottimista, l'importante è crescere e credere nelle nostre potenzialità, è un gruppo giovane e vedremo dove possiamo arrivare. Col tecnico della frattese Andrea Ciaramella, mister, è arrivata un'altra vittoria all'Oiannello, questo stadio è un fortino quasi inespugnabile per la tua squadra. Sì, oggi è venuta una vittoria molto importante, sofferta contro una buona squadra, ho visto una squadra alla nostra molto molto concentrata, sapendo l'importanza dei tre punti e abbiamo anche oggi fatto, secondo me, una buona gara, dobbiamo continuare così. Sono contento per tutti i ragazzi, per chi ha giocato, per chi è subentrato, per chi sta in panchina. È un grande gruppo, lo dimostra anche in queste circostanze, quando c'è da soffrire, tutti insieme si soffre e si vince.